Bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti, sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi sono qua con voi e vi racconto la storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Oggi parleremo però di una storia un po' diversa dal solito. Parlo troppo spesso di casi risolti, persone scomparse che non si sa che fine abbiano fatto, storie di cui non si conosce la fine oppure che sono finite molto male. E molti di voi mi hanno scritto ma fare una storia che abbia anche un lieto fine no? E avete proprio ragione, per questo motivo ho deciso di fare una specie di rubrica, anche se vabbè non sarà proprio una rubrica ma comunque di persone che sono scomparse sì ma che alla fine sono sopravvissute, cioè persone che hanno passato l'inferno ma che alla fine ne sono uscite, ce l'hanno fatta. Quindi fatemi sapere se quest'idea può piacervi e in quel caso aggiungerò una playlist sul mio canale, appunto una nuova rubrica e la chiamerò sopravvissuti. Ci sono davvero tantissime di queste storie, ci sono persone che hanno davvero passato l'inferno, situazioni allucinanti di cui neanche io ero a conoscenza, come per esempio la storia di cui andremo a parlare oggi. Quindi fatemi sapere appunto se è una cosa che può interessarvi. La storia di oggi sarà particolarmente angosciante, o almeno per me lo è, perché parleremo di un uomo che è rimasto per quattro giorni in mezzo all'oceano da solo. Così, perso in mezzo al mare dopo una sessione di immersioni, finita molto molto male. Il mare è sempre qualcosa che mi ha affascinato, ma allo stesso tempo anche molto angosciato. Io soffro di mal di mare, quindi mi angoscia anche solo il pensiero di rimanere su una barca per troppo tempo. Figuriamoci a mollo in mezzo all'oceano, da sola, per quattro giorni e tre notti. Sto male solo a pensarci. Ci troviamo in Nuova Zelanda nel febbraio del 2006. In Nuova Zelanda le stagioni sono al contrario rispetto alle nostre, di conseguenza a febbraio lì è la fine dell'estate. Rob Hewitt ha 38 anni e un ufficiale della Marina, anzi penso fosse proprio un sommozzatore della Marina, che dopo 20 anni di carriera aveva deciso di congedarsi e cercarne una nuova di carriera. Rob aveva una moglie e due figli da mantenere. Era quindi un momento molto delicato della sua vita. Un momento di forte cambiamento in cui doveva capire cosa fare della sua vita. Si era preso un periodo di permesso da lavoro di nove settimane, che era una cosa standard per chi dopo tanti anni di servizio si congedava. Ti davano questo tempo a disposizione proprio per aiutarti a capire che cosa fare dopo. In questo periodo Rob aveva un po' tirato le somme e aveva pensato che con tutta l'esperienza che aveva come sommozzatore della Marina, avrebbe potuto fare l'istruttore di sub e rimanere comunque nel suo elemento, il mare. Rob aveva sempre avuto la passione per il mare. Racconta che fin da piccolo il suo supereroe preferito era Aquaman e da piccolo desiderava proprio di essere come lui, come Aquaman e in un certo senso c'era riuscito. In acqua Rob si sentiva a casa. Quella mattina intorno alle 6 e 30 Rob si sveglia a fianco a sua moglie, l'aveva salutata ed era andato a fare la sua prima immersione da civile. Era insieme ad un gruppo di sommozzatori e insieme sarebbero andati a caccia di gamberi intorno all'isola di Mana. Quell'immersione per un veterano come Rob era uno scherzo, una cosa facilissima. Infatti sulla barca che stava conducendo Rob e gli altri sommozzatori al punto di inizio dell'immersione, l'umore era molto leggero, scherzoso. Hanno iniziato a sfidarsi l'un l'altro dicendo tu quanto tempo sai rimanere sott'acqua, io riesco a pescare gamberi più grossi. E Rob in tutto questo pensava, guarda sti ragazzini, adesso gli faccio vedere io come si fa. La barca si ferma in mezzo al mare e tutti iniziano a tuffarsi e ad immergersi. E per sicurezza avevano deciso di immergersi a coppie, così da non rimanere mai soli. Rob si immerge insieme al suo compagno e una volta arrivati sul fondo iniziano a cacciare e a cercare questi gamberi. Rob inizia a scandagliare il fondale, a sollevare tutte le pietre, godendosi la sensazione di essere lì, godendosi il silenzio che regna quando sei sott'acqua. Ma Rob si rende conto molto in fretta che a pescare gamberi non è così bravo come aveva immaginato. Durante i suoi vent'anni di servizio si era immerso per recuperare qualsiasi genere di cosa, persino cadaveri. Invece questa volta, dopo venti minuti di immersione, Rob riemerge a mani vuote. Non era riuscito a pescare neanche un gambero. E intorno alle quattro del pomeriggio Rob era rimasto l'unico a non essere riuscito a pescare neanche un gamberetto. E gli altri del gruppo chiaramente lo prendono in giro, scherzosamente, mostrandogli tutti quelli che invece avevano pescato l'oro. Allora Rob decide di fare l'ultima immersione della giornata, sempre insieme al suo compagno, per provare per l'ultima volta a pescare qualcosa. Ma una volta sceso, Rob ha un problema. Non è riuscito a rilasciare bene la pressione e quindi continuare ad immergersi, insomma, continuare ad andare in profondità per lui stava diventando doloroso. Quindi decide di riemergere e rifare tutto da capo. Nel frattempo gli altri sub continuano la loro immersione. Di conseguenza quando Rob si riemerge, questa volta è da solo. Il suo compagno era andato avanti. Fare immersioni da soli è molto pericoloso, ovviamente, perché se succede qualcosa non hai qualcuno che vada subito a chiedere aiuto. Ma Rob non è minimamente preoccupato di questo dopo i suoi vent'anni di esperienza. Mentre nuota, Rob vede dei ricci di mare e decide di pescarne uno. Questo perché a sua moglie piacevano tantissimo. Pesca questo riccio di mare e in quel momento si accorge che lì di fianco c'è anche un grosso gambero. Però finalmente Rob riesce a pescare un gambero e un riccio di mare. Ma mentre sta facendo questo, non si accorge che l'acqua intorno a lui aveva cominciato a cambiare. E quando lo realizza è troppo tardi. Improvvisamente una fortissima corrente di acqua fredda lo travolge e se lo trascina con sé. Rob è imprigionato in questa sorta di valanga di acqua che lo fa rotolare e lo strattona dappertutto. Mentre Rob è travolto da questa corrente perde anche il boccaglio che gli permetteva di respirare e rischia di annegare. Rob continua a rotolare travolto e trascinato da questa corrente e a quel punto non capiva più quale fosse il fondale, quale fosse la superficie. E racconta di aver pensato in quel momento, ok questa è la fine, questo è il momento, sto morendo. Ma a un certo punto questa corrente insomma passa e Rob si trova sul fondale del mare e con tutta la sua forza tira un calcio al fondale, si spinge con tutta la forza che ha nelle gambe e in questo modo riesce a riemergere. Una volta emerso, una volta aver respirato di nuovo, il suo senso dell'orientamento gli suggeriva che a questo punto era stato trascinato a circa 50-60 metri dalla barca. Ma quando si guarda attorno si rende conto che la barca è molto più lontana. La corrente lo aveva trascinato a più di un chilometro dal punto in cui l'aveva colpito. Più di un chilometro in una manciata di minuti. A quel punto Rob decide chiaramente di iniziare a nuotare verso la barca. E come avrete capito Rob è un uomo molto orgoglioso. Non voleva farsi prendere in giro dagli altri ragazzi per non aver pescato nessun gambero. E di sicuro non aveva intenzione di farsi salvare da loro. Soprattutto perché fino a pochi mesi fa era proprio il suo lavoro, era proprio il lavoro di Rob salvare le altre persone. Quindi decide di iniziare a nuotare verso la barca e che non si sarebbe fermato fino a quando non l'avrebbe raggiunta. Ma nonostante i suoi sforzi, la barca sembrava allontanarsi sempre di più invece che avvicinarsi. Capisce che la corrente era ancora forte e continuava a trascinarlo e ad allontanarlo dalla barca. Allora inizia ad urlare con tutta la sua voce, inizia a sbracciarsi sperando che qualcuno sulla barca lo vedesse. Ma purtroppo nessuno riesce a vederlo e nessuno riesce a sentirlo. E nel frattempo la corrente continua a trascinarlo a largo. E dopo due ore Rob è in mezzo al mare e in mezzo al niente. I compagni nel frattempo si accorgono che Rob non è mai riemerso e avvertono subito la guardia costiera che inizia a cercarlo. E lo cercano con cinque barche diverse ma purtroppo lo cercano nel posto sbagliato. Purtroppo la corrente in pochissimo tempo l'aveva già trascinato a largo e nessuna di queste barche riesce a trovarlo. Cinque ore dopo Rob si trova in mezzo al mar della Tasmania che sarebbe il mare tra la Nuova Zelanda e l'Australia. E questo mare fa parte dell'Oceano Pacifico. E ad un certo punto Rob vede nel cielo un aeroplano che sembrava andare proprio nella sua direzione. Rob è sicuro quindi che sia lì per salvarlo. Inizia di nuovo a urlare, a sbracciarsi per farsi vedere. Ma questo aeroplano gli passa sopra ma non lo vede e se ne va. E lui lo vede allontanarsi sempre di più. La corrente continua a trascinarlo a largo e nel frattempo il sole stava iniziando a tramontare. Rob deve fare i conti con due delle cose più spaventose del mondo. La prima deve accettare che passerà la notte da solo a galla in mezzo all'oceano, al buio più completo. E la seconda che probabilmente gli unici a trovarlo durante la notte saranno gli squali che popolavano quel tratto di oceano. E di nuovo Rob si ritrova a chiedersi se sopravviverà. Nel frattempo le autorità vanno a casa di Rob a comunicare a sua moglie che suo marito era disperso in mare e che non pensavano fosse ancora in vita. La notte scende e Rob sta cercando di mettere in pratica tutte le cose che ha imparato in quei vent'anni nella marina. Per stare più al caldo possibile piega tutti gli arti ma si trovava in mezzo all'oceano pacifico. Voi avete idea di quanto sia freddo l'oceano pacifico? Io no perché non l'ho mai toccato ma dicono che sia veramente freddissima l'acqua. Rob di quella prima notte ricorda il silenzio assordante che lo circondava e che gli faceva sentire ogni piccolissimo movimento che l'acqua faceva. E ad ogni rumore che sentiva chiaramente pensava ad una sola cosa, gli squali. Gli squali attaccano prede indifese e Rob in quel momento era il pasto perfetto per loro. Prova quindi a rilassarsi il più possibile in modo da rallentare il battito del suo cuore così da fare meno rumore possibile. La notte sembra interminabile ma finalmente passa. Il sole sorge e a quel punto sono passate 18 ore da quando Rob è disperso in mare. Ma l'essere sopravvissuto a questa prima notte gli dà una sorta di carica. Spera con tutto se stesso che quel giorno qualcuno lo troverà e lo verrà a salvare. Ma verso le 10 del mattino ancora non si vedeva nessuno all'orizzonte. La corrente a quel punto lo aveva allontanato di 16 chilometri. Rob si sente estremamente solo e abbandonato. Ma aveva ancora con sé la rete, il sacco, dentro cui c'erano il riccio di mare e il gambero che era riuscito a pescare il giorno prima. E Rob racconta che quel gambero che era ancora vivo era il suo unico amico in quel momento. E per sopravvivere alla solitudine, per avere qualcuno con cui parlare, che lo aiutasse a non impazzire, lo chiama Tama e inizia a parlare con lui. Sapeva che era una follia, sapeva che il gambero non gli avrebbe mai risposto. Ma era un modo per appunto non impazzire, un po' come Tom Hanks in Cast Away con il suo pallone che si chiamava Wilson se non ricordo male. Rob stava facendo il possibile per sopravvivere. E avere un amico gambero in quel momento era qualcosa che lo aiutava. Dopo circa 30 ore in mare si alza un vento molto forte e le onde iniziano a diventare violente. A Rob bruciano incredibilmente gli occhi, le onde lo stanno sbattendo di qua e di là. E mentre Rob con una mano si strofina gli occhi, si tocca la faccia per appunto togliersi quest'acqua salata dagli occhi, si rende conto che non appena si era toccato la pelle della faccia, si era fatto male. La pelle gli si era aperta, si era ferito. La sua pelle dopo 30 ore a mollo era diventata morbidissima, vulnerabile, bastava toccarla per tagliarla, aprirla. Allora Rob decide di togliersi i guanti della muta che aveva ancora addosso. E quando lo fa vede che la pelle delle sue mani stava letteralmente venendo via e le unghie gli sono iniziate a cadere una dopo l'altra. Tutto ciò era estremamente doloroso. Immaginate tutte quelle ferite con l'acqua salata di questo mare mosso che gli sbatteva sopra tutte quelle ferite aperte. A quel punto a causa della fame, della disidratazione, del mare mosso Rob inizia a sentirsi male e inizia a vomitare e non riesce a smettere. E questo era un problema perché Rob era a digiuno da più di 30 ore, era estremamente disidratato, il vomitare stava peggiorando drasticamente questa cosa. Quindi doveva trovare un modo di mettere qualcosa sotto i denti e doveva farlo in fretta se intendeva sopravvivere. Allora prende il riccio di mare che aveva nel suo sacco, prende un coltellino che aveva con sé e decide di aprirlo e mangiare quello. Ma ovviamente un riccio di mare non poteva abbassare. Ed è lì che decide di prendere il suo amico gambero che aveva chiamato Tama e capisce che deve lasciare da parte i sentimentalismi. Doveva fare una scelta, doveva sopravvivere a tutti i costi. Di conseguenza chiede scusa al suo amico Tama, lo uccide e se lo mangia. E grazie a questo però Rob riesce a sopravvivere un po' più a lungo. Ma più la corrente lo trascinava e meno possibilità c'erano che qualcuno lo trovasse. E aveva anche urgentemente bisogno di bere, che era la cosa più importante in quel momento. Chiaramente non poteva bere l'acqua del mare, che come saprete fa malissimo, causa dissenteria, cosa che lo avrebbe fatto disidratare ancora di più. Ma proprio prima che il sole tramontasse in quel secondo giorno in mezzo al mare, inizia a piovere. E così Rob può finalmente bere. E Rob racconta la sensazione che ha provato nel bere finalmente dopo tutte quelle ore. Racconta di aver fatto riempire la sua maschera di acqua piovana. E quando l'ha bevuta ha proprio sentito il suo corpo tornare in vita. Riempirsi di energia e allo stesso tempo ha sentito il suo cuore riempirsi di speranza, di forza per resistere ancora. Scende la seconda notte in mezzo al mare, in mezzo al nulla. Ma ad un certo punto a Rob sembra di vedere una piccola lucetta all'orizzonte. E dopo un po' capisce che quella lucetta veniva da un'isola. Cioè che all'orizzonte davanti a lui c'era una piccola isola. La corrente infatti lo aveva spinto fino all'isola Capiti. E quest'isola si trovava comunque estremamente lontana da dove si trovava lui in quel momento. Però era comunque un punto di riferimento. C'era della terra ferma all'orizzonte. Quello era un motivo per rimanere in vita. E Rob decide di iniziare a nuotare verso quella luce. E per farsi forza tutto il tempo ha pensato ai suoi figli. Al fatto che voleva vederli crescere, voleva riabbracciarli. Ma purtroppo dopo un po' che Rob nuotava il suo corpo inizia a cedere. Un'enorme debolezza prende il sopravvento su di lui. E iniziano anche a venirgli dei forti crampi alle gambe. Che gli rendevano impossibile il continuare a nuotare. E proprio in quel momento la corrente cambia di nuovo. E se fino a quel momento lo stava trascinando verso la terra ferma. Adesso aveva ricominciato a trascinarlo a largo. E a questo punto Rob era talmente debole e senza forze che per dei sensi. Per fortuna la sua muta continuava a tenerlo a galla. Ma al suo risveglio la corrente lo aveva trascinato di nuovo molto lontano da quell'isola. Perché appunto essendo svenuto lui si era lasciato trascinare. A quel punto Rob si trovava perso in mezzo al mare da 40 ore. E stava iniziando a perdere le speranze. Aveva mangiato tutto quello che poteva mangiare. Bevuto tutto quello che poteva bere. Aveva usato tutte le sue energie cercando di salvarsi. E in tutto ciò nessuno era andato a cercarlo. E adesso non riusciva a fare altro se non stare lì. Stare a galla e aspettare. Rob racconta che in quel momento aveva deciso di iniziare ad aspettare. Di morire. E Rob racconta anche che durante la notte. Ogni volta che perdeva i sensi o si addormentava. Aveva iniziato a fare dei sogni. Questi sogni erano super realistici. Avete presente quando sognate qualcosa che sembra davvero che lo stiate vivendo. In questi sogni lui veniva trascinato dalla corrente a riva. Si alzava in piedi ed entrava in un supermarket. E in questo supermarket prendeva dal frigo una lattina di soda. E iniziava a berla. E racconta che la sensazione di bere era talmente reale. Che pensava davvero. Cioè nel sogno lui pensava davvero di essersi salvato. Pensava che finalmente fosse tutto finito. E poi il secondo dopo si svegliava e si ritrovava di nuovo in mezzo al mare. E realizzava che era tutto un sogno. E la verità è che era disperso da due giorni. E non si vedeva la fine di quell'incubo. Il sole sorge nel suo terzo giorno in mare. E Rob decide di lasciare andare la bombola di ossigeno che aveva ancora con sé. Tanto non c'era più ossigeno dentro. Era solo un peso in più che il suo corpo ormai non riusciva più a sostenere. Quindi la lascia andare e poi torna a stare lì. E ad aspettare. Ma proprio quel terzo giorno l'universo sembra davvero accanirsi con lui. Era talmente debole da non riuscire più neanche a muoversi. E proprio in quel momento vede qualcosa muoversi nell'acqua vicino a lui. Proprio così amici. Era uno squalo. Rob tira fuori il coltello che aveva con sé per difendersi. E rimane fermo dei minuti che gli sembrano ore. Mentre questo squalo inizia a girargli attorno. Ma dopo un po' fortunatamente lo squalo se ne va e non lo attacca. Ma purtroppo quella non era l'unica minaccia in questo maledetto terzo giorno. Perché anche il sole quel giorno era particolarmente forte. E stava letteralmente cuocendo vivo Rob. Si sentiva la faccia gonfia piena di vesciche. E gli bruciava tutto da morire. Immaginate tutte le ferite che già aveva. Tutte tra l'altro infettate da tutti i batteri che c'erano nel mare. In più cotte dal forte sole. La pelle che gli si staccava. E chiaramente il tutto bagnato da quest'acqua salata che doveva bruciargli. Che non riesco neanche a immaginarlo. E la verità amici è che il corpo di Rob si stava iniziando a decomporre. E peccato che lui era ancora vivo. Cioè si stava decomponendo vivo. Quella era una tortura lentissima. E nel frattempo stava anche comunque morendo di disidratazione. Cosa che ovviamente il forte sole stava peggiorando. Erano passati tre giorni. E Rob non aveva visto né una nave né un aereo. Nulla all'orizzonte. Nessun segno di elicotteri o soccorsi vari. Quindi Rob arriva ad un punto in cui dice Ok, voglio che questa tortura finisca. Voglio farla finita. E voglio che sia io a deciderlo. Almeno anche se in piccolissima parte. Sarò io l'artefice del mio destino. La scelta a quel punto era tra farla finita o aspettare e morire di una morte dolorosissima e lentissima. Oppure ancora peggio, mangiato da uno squalo. Rob inizia quindi a pregare. A chiedere al cielo di prendersi cura di sua moglie, dei suoi figli. E poi si immerge in acqua. Arrendendosi e cercando di annegarsi. Ma annegare volontariamente non è così semplice ragazzi. Non importa quanto tu sia disperato. E Rob lo era. Ma l'istinto di sopravvivenza ti porterà sempre a uscire dall'acqua e a prendere una boccata d'aria. Infatti questo succede a Rob. Vi ricordo che appunto a tenerlo a galla ci pensava anche la sua muta. Che non si era mai tolto e secondo me questo è anche un segno del fatto che non volesse davvero morire. E meno male amici, meno male. A questo punto erano passate 68 ore. Rob si trovava a 60 chilometri da dove era partito. Scende la terza notte. Rob si trova di nuovo in mezzo al buio più completo. Sempre da solo. Ha capito di non riuscire neanche a farla finita. E quindi di nuovo si arrende. E torna ad aspettare. E mentre aspetta. Torna con la sua mente a tutti i momenti felici che ha passato nella sua vita. Ripensa a tutti i bei ricordi che ha della sua famiglia, dei suoi amici. E alla fine è grato della vita che ha vissuto. Nel frattempo sulla terraferma i soccorsi sono ormai sicuri che Rob sia morto. Mentre invece sua moglie non lo è. Rifiuta l'idea che suo marito sia morto. Ogni giorno va a guardare l'oceano per sentirsi più vicina a lui. E nel suo cuore sente che Rob è ancora vivo. E prega tutti i giorni che possa tornare da lei. Tutti i giorni chiede all'oceano di ridargli suo marito. Nel frattempo il sole sorge sul quarto giorno. Rob è a mollo da quattro giorni. E a questo punto inizia un po' a dare di matto. Inizia a perdere lucidità. Inizia a sentirsi claustrofobico dentro la muta. Che però era l'unica cosa che lo stava tenendo a galla. Di conseguenza che lo stava tenendo in vita. La muta oltre a tenerlo a galla lo stava anche tenendo diciamo al caldo. Evitando che morisse di ipotermia. Ma ormai non gli importava più di nulla. Si toglie le pinne che aveva ancora addosso. E inizia anche a togliersi delle parti della sua muta. Ma durante quella terza notte era successo qualcosa di incredibile. Di cui Rob non si era neanche accorto. La corrente era di nuovo cambiata. E lo aveva trascinato molto velocemente amici nel punto in cui Rob era partito. La corrente lo aveva riportato nei pressi dell'isola di Mana. L'oceano l'aveva riportato indietro. Proprio come sua moglie aveva chiesto. Ma Rob è talmente debole e poco lucido da non rendersene conto. Ormai è quasi morto. Ma proprio in quel momento, dopo quattro giorni e tre notti, in mezzo al mare, proprio quando Rob è praticamente morto, qualcuno lo vede. E finalmente lo salva. Dopo 75 ore perso in mezzo al mare, Rob viene visto dai soccorsi. Nella stessa area in cui era stato visto per l'ultima volta dai suoi compagni di immersioni. I soccorsi lo tirano su e in quel momento Rob è convinto che si tratti di un'allucinazione. O di un altro di quei sogni molto realistici. Ma invece non era così. Rob era stato davvero salvato. Viene subito ricoverato all'ospedale. Era estremamente disidratato. Il suo corpo era andato in ipotermia. Era stato infettato da parassiti del mare che vengono chiamati i pidocchi di mare. Aveva delle bruttissime ustioni causate dal sole e aveva perso ben 10 chili. 10 chili in quattro giorni. Rob si è però completamente ripreso e ha potuto riabbracciare tutta la sua famiglia. E dopo 14 mesi, con sua moglie, danno alla luce anche una nuova figlia. Una bambina che hanno chiamato con un nome Maori che significa risveglio, consapevolezza. E la cosa più assurda per me è che dopo questa terribile e traumatica esperienza, Rob ha iniziato a lavorare davvero come istruttore di sub. Faceva immersioni proprio nelle stesse acque che l'avevano quasi ucciso. E io ho così tanta stima per quest'uomo. Non solo per essere stato così forte, per essere riuscito a sopravvivere per così tanto tempo. Ma c'è il fatto che abbia continuato nel suo obiettivo di diventare istruttore di sub. Nonostante questa tragica vicenda, penso la dica lunga sull'uomo che è. Si dice che se cadi da cavallo devi risalirci subito perché sennò poi diventa un trauma e non ci salirai mai più. E cavolo, però se è difficile. Io sono una che si traumatizza molto facilmente. Sono stata male una volta sulla barca e ho giurato di non salire mai più su una barca. Adesso ho il terrore. Figuriamoci dopo essere morta di fame, di sete, di squali in mezzo al mare. Penso che non toccherei neanche, non lo so, l'acqua. Non vorrei neanche più vederla da lontano. Penso avrei paura anche a bere un bicchiere d'acqua. Non so, avrei paura di annegarci. Vabbè, sto un po' esagerando, ma in realtà anche no. Ed è proprio per questo, amici, che vorrei fare una rubrica, una serie su queste storie. Ripeto, sempre se siete d'accordo. Perché quando leggo di storie del genere mi viene una carica dentro e metto tutto in prospettiva. Perché i miei problemi, per quanto non siano problemi gravi, ma spesso mi travolgono. Soprattutto in questo periodo, comunque, siamo in Cina e non possiamo tornare in Italia perché, appunto, non si può. E' un periodo particolarmente difficile perché iniziano davvero a mancarmi tanto i miei amici, la mia famiglia. E mi sono ritrovata in questo periodo a dire spesso che mi sento in alto mare, mi sento con l'acqua alla gola. E ho usato spesso questa espressione, tipo, mi sento, non lo so, persa in mezzo al mare. E sto facendo adesso questo collegamento, forse inconsciamente ho scelto questo caso, proprio per questo, non so, forse per darmi coraggio. Cioè, perché leggere di un uomo che letteralmente è sopravvissuto, cioè che è letteralmente stato in alto mare, sommerso con l'acqua alla gola ed è riuscito a sopravvivere, non solo questo, ha superato questo evento traumatico e ne ha fatto una carriera. Cioè, ha ritrovato il controllo, ha avuto, sì, la forza di avere il controllo delle proprie paure, affrontarle, farle sue e farne un lavoro. Non lo so, è qualcosa che mi dà davvero una carica incredibile. Se quest'uomo è riuscito a fare questa cosa, allora io posso fare tutto e i miei problemi, le mie paure diventano piccole così. Fatemi sapere se anche a voi queste storie fanno questo effetto. Alla fine è stato un anno terribile per tutti, quindi ci meritiamo un po' di storie di sopravvivenza, ci meritiamo un po' di storie che finiscono con un lieto fine. Che dite? Fatemi sapere se siete d'accordo, fatemi sapere se queste storie vi interessano, se volete sentirne altre. E nel frattempo vi ringrazio come al solito di aver passato il tempo con me anche oggi. Non avete idea di quanto siate importanti per me, soprattutto in questo periodo. Mi aiutate tantissimo, anche voi mi date una carica incredibile. Ogni vostro commento di supporto mi dà la forza di continuare a fare quello che faccio, a fare video ogni giorno. Davvero mi date un motivo per sorridere e mettermi davanti al computer e creare un nuovo video. Quindi vi voglio ringraziare dal profondo del mio cuore, siamo anche arrivati a 80.000 ragazzi, ma stiamo scherzando? Non me lo sarei mai immaginato davvero. Quando ho iniziato questo canale ho pensato, wow, se solo arriverò a 1.000 iscritti sarà già una cosa grandiosa. Non avrei mai pensato di arrivare ad un risultato del genere in così poco tempo. Grazie, non so, non saprò mai come dirvelo. Grazie, grazie, grazie. Basta, la smetto di blatterare, ci vediamo al prossimo video. Ciao!